Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video cerco di pormi una domanda apparentemente semplice ma che nasconde tante complessità. E la domanda è questa. Cosa contiene un browser? Ora, i browser sono probabilmente tra gli oggetti più utilizzati dell'informatica. Cioè tra tutte le tecnologie che l'informatica ha tirato fuori dal suo cappello magico, sicuramente i browser sono tra le top, tra le top tecnologie perché tutti oramai utilizziamo un browser. La maggior parte delle applicazioni oramai sono principalmente applicazioni per il web ed infatti anche la maggior parte dei lavori che hanno a che fare con la tecnologia e quindi con l'informatica sono praticamente quasi tutti lavori nel contesto del web che possono essere front-end, back-end, full stack, devops e via dicendo ma alla fine dei conti gli utenti accedono e utilizzano questi servizi tramite un browser. Sorge quindi la domanda ma che cosa contiene un browser? Cioè che cos'è un browser? Quali sono i vari compiti, i vari problemi che un browser ci risolve fondamentalmente? Quindi che cos'è il browser? Possiamo dire a prima vista che il browser è il software che utilizziamo come client per navigare il contenuto del web. Quindi abbiamo una vista protocollare di tipo client-server quindi che vuol dire? Vuol dire che abbiamo un server che espone dei servizi o delle risorse generali i client vogliono accedere a queste risorse e per accedere a queste risorse il client invia delle richieste al server il server risponde con delle risposte e quindi il dispositivo del cliente, che poi si chiama anche client fondamentalmente è proprio il browser. Cioè nel contesto del web il browser è quel dispositivo che si interfaccia con i server che erogano le risorse di interesse. Ovviamente però stiamo in un contesto molto complesso. Perché? Perché abbiamo tanti linguaggi, tanti protocolli e tante cose potenzialmente critiche. Ed infatti, lo menzionerò questo alla fine, ma il browser implementa tantissimi meccanismi di sicurezza e questi meccanismi di sicurezza sono motivati dal fatto che il browser rappresenta il punto di contatto tra l'utente e il web. Quindi vuol dire che tutti gli attacchi malevoli, tutti i siti malevoli, tutte le cose potenzialmente pericolose, il browser le deve gestire. E quindi ovviamente deve avere tanta sicurezza built in. Dopodiché, oltre però dell'aspetto della sicurezza, dal punto di vista di funzionalità pura, che cosa deve fare un browser? Fondamentalmente ha due scopi principali, che poi si vanno a suddividere in tanti scopi diversi. Il primo è che, essendo un componente di una serie di protocolli, quindi essendo un componente che ha a che fare in un contesto di rete, di networking, il browser dovrà sicuramente implementare la stack protocollare che gli interessa a lui. Ovvero, quando noi diciamo che il client e il server comunicano nella rete inviandosi dei pacchetti e bla bla bla. Questa comunicazione deve avvenire tramite delle regole protocollari, cioè devono, per avere questa comunicazione, si devono implementare una serie di protocolli. E il web, ovviamente, è pieno di protocolli diversi che a breve andremo ad approfondire. Quindi sicuramente il browser deve implementare tutte quelle routine, tutta quella logica di gestione di queste comunicazioni. Ma non finisce qui, ovviamente. Perché? Perché oltre a parlare con i web server per ottenere il contenuto, quindi per richiedere e ottenere e leggere il contenuto, il browser lo deve anche mostrare questo contenuto. E quindi il browser ha bisogno di vari interpreti di linguaggi. Non solo uno, ma tanti. Perché nel corso dell'evoluzione dei browser, fondamentalmente si è passati dall'interpretare soltanto l'HTML statico, all'introduzione del CSS per cambiare la grafica e lo stile, infine all'introduzione del JavaScript per modificare in modo dinamico quell'HTML e quel CSS. Quindi fondamentalmente devono essere, devono implementare la stack protocollare per parlare con i web server e devono implementare tutti questi interpreti e tutte queste regole di esecuzione di codice e di rendering pure di codice, ovviamente, perché devono mostrare qualcosa all'utente per ovviamente andare ad interpretare quel contenuto, ovvero il client comunica con il server, la comunicazione avviene tramite i protocolli, il server alla fine invierà dei byte a questo client, una sequenza di byte, il client poi questi byte li deve leggere, li deve interpretare, li deve processare in modo proprio e poi questo potrebbe portare all'esecuzione di nuove richieste HTTP. Ed infatti, proprio perché i browser devono implementare e supportare tutte queste cose più una serie di controlli di sicurezza, perché il browser si interfaccia, è l'elemento di interfaccia tra l'utente e il web, di browser engine, cioè di engine che si occupano appunto il core del browser, oramai ce ne sono veramente poche. Nello specifico qui, questa comparison of browser engines, essenzialmente adesso ne abbiamo tre principali, che sono WebKit di Apple, Blink di Google e Gecko di Mozilla, che ovviamente hanno a che fare con Firefox, Google Chrome e Safari. Quindi oramai ne abbiamo tre, cioè tutti gli altri sono praticamente non esistenti, ci sono una serie di progetti che stanno uscendo un po' più recenti, però di browser veri e propri, production ready, con tutte le feature di sicurezza e di funzionalità, sono praticamente questi tre principali, WebKit, Blink e Gecko. Questo perché? Perché appunto devono implementare un botto, un botto di roba. Per esempio, per quanto riguarda lo stack protocollare, il browser non è che deve implementare un protocollo di rete, ne deve implementare tantissimi, tutti molto complessi. Ora, tra questi sicuramente il protocollo HTTP è quello più importante, è anche quello introduttivo, quello che ha introdotto il vero e proprio Web. Perché alla fine, che cos'è il Web? Il Web ovviamente è un argomento complesso che meriterebbe il proprio video, ma possiamo considerare il Web come una struttura astratta che viene costruita lì sopra di Internet. Ovvero, mentre Internet è l'insieme di connessioni IP, quindi vuol dire che ho tutta una serie di dispositivi e questi dispositivi sono caratterizzati ciascuno da un proprio indirizzo IP, IP1, IP2, IP3 e via dicendo, e tramite tutti i router della rete io posso fondamentalmente connettere questi computer perché ho dei path o dei cammini che vanno per esempio da P1, lui vuole andare a P3 e quindi va a P3. Questo è l'Internet ed Internet funziona con il protocollo IP. Il Web non si basa solo sul protocollo IP. Il Web è costruito sopra Internet, è costruito sopra il protocollo IP e nello specifico si basa appunto sui protocolli per esempio HTTP e quindi possiamo considerare il Web come un'astrazione sopra Internet. È un insieme di browser e di web server che offrono vari tipi di risorse, tra cui risorse HTML, dove le risorse HTML sono quelle principali del Web, perché quando il Web è stato introdotto, perché è stato introdotto il Web? È stato introdotto il Web per condividere risorse HTML. Quindi sicuramente l'HTTP è fondamentale e l'HTTP, le versioni prime dell'HTTP, quelle un po' più semplici, hanno una struttura molto semplice. Per esempio tramite il comando curl uno può fare una richiesta, per esempio, al mio sito, donaldotamianoxyz, con trattino v per ottenere fondamentalmente tutto il debug indietro e quindi in particolare qui c'è la richiesta HTTP, questa get con il pata, la risorsa a cui voglio accedere, la versione del protocollo, l'host name che voglio utilizzare, lo user agent, i tipi di dati che voglio accettare e via dicendo. Quindi questa è la mia richiesta e questa è la risposta del server. Ora, implementarsi un protocollo non è per niente banale. Perché? Perché non è che io devo semplicemente gestire un particolare verbo, due particolari opzioni e via dicendo. No, l'idea è quella di andarsi ad implementare tutto lo standard. Ed è possibile vedere lo standard implementato tramite gli RFC, che sono dei documenti fondamentali per l'implementazione dei protocolli di internet in generale. In particolare, tipo questo qui è l'ultima versione di HTTP, che è HTTP 3, che ha cambiato molto le cose rispetto ad HTTP 1, rispetto alla prima versione. Bene, fondamentalmente quando uno deve sviluppare una cosa del genere, si deve andare a leggere questo documento e in questo documento ci sono tantissimi dettagli. Cioè, questo documento fondamentalmente formalizza, cerca di descrivere esattamente come il protocollo si deve comportare nelle varie possibili situazioni. E questo ha una complessità significativa, perché devo veramente gestire tantissimi casi particolari diversi, tantissimi flussi diversi, con tantissimi parametri diversi. E questo è solo per un singolo protocollo, sia chiaro. Cioè, il protocollo HTTP ha varie versioni e quindi io devo dare supporto per la versione 1.0, per quella 1.1, per quella 2.0, per quella 3.0 e via dicendo. Quindi, soltanto supportare un protocollo in realtà da zero, che sia un supporto significativo, è molto molto complesso. Ovviamente non si ferma qui perché il protocollo HTTP di default, per esempio, non mi dà nessun tipo di garanzia rispetto alla sicurezza. E quindi, on top di tutta questa logica già esistente, il browser si deve anche implementare tutta la logica del TLS. E il TLS è quell'algoritmo che va a gestire la sicurezza nella rete del web. Cioè, quando il mio client si vendita un server, la comunicazione viene cifrata da entrambi i lati. Quindi viene cifrata proprio dal browser, prima ancora di fuoriuscire dalla rete. Ed è anche per questa la ragione per cui le VPN non aumentano la sicurezza nella rete. Perché la VPN non offre un servizio che non esiste. La VPN semplicemente fa un ulteriore layer di cifrazione sopra quella fatta dal browser. Ma se uno si connette ad un sito con HTTPS, tipo in questo caso, il browser già di per sé cifra tutti i dati utilizzando il TLS. Quindi anche qui c'è una complicità enorme nel solo implementarsi questo tipo di protocollo. Perché il TLS, anche il TLS, è un mondo a sé stante. Cioè, nuovamente qui non stiamo parlando di, vabbè, un protocollo e me lo implemento subito. No, è estremamente complesso e necessita un sacco di attenzione ed expertise. Perché? Perché pure il TLS ha diverse versioni, va a definire un sacco di flussi diversi, con un sacco di varianti diversi e quindi c'è un sacco di complessità in più. Per non parlare ovviamente che poi il TLS utilizza tutta una serie di criptografia. Quindi non solo mi devo implementare la parte di networking, ovvero lo scambio dei messaggi. Ma dato che il TLS è un protocollo di networking di criptografia, mi devo anche implementare tutte le routine e le primitive di criptografia. E quindi poi i browser o utilizzano librerie esterne o se le implementano loro stessi. Fondamentalmente devono avere anche questa roba, cioè devono utilizzare tutte le primitive della criptografia per stabilire una sessione TLS. E questi sono i principali. L'HTTP con il TLS che poi fondamentalmente assieme danno vita all'HTTPS. Ma anche qui non è che implementano soltanto l'HTTP. Ci sono tutta una serie di altri protocolli che non vedremo in dettaglio. Per esempio c'è il QUIC che vuole essere fondamentalmente un nuovo modo per connettersi alla rete. Il QUIC è costruito sopra l'UDP, mentre l'HTTP è costruito sopra il TCP e il TCP dà varie garanzie alla comunicazione, ma questo introduce anche del delay. Quindi è più lento creare, fare un handshake TCP e poi inviare il messaggio HTTP. Il QUIC cerca di farlo sopra UDP e quindi anche lì il QUIC è un protocollo più recente che cerca di essere un po' più sofisticato nel modo in cui stabilisce fondamentalmente lo scambio di dati per cercare di aumentare le performance. Poi per esempio abbiamo il WebSocket che è un altro tipo di protocollo, cioè permette una comunicazione tra client e server senza avere il tipico modello in cui è il client ad inviare la richiesta. Il WebSocket fondamentalmente crea a tutti gli effetti un socket come se fosse un socket TCP, ma lo fa a un livello superiore del canale TCP, quindi è proprio un socket applicativo e quindi permette di creare un canale di comunicazione tra client e server. Poi per esempio c'è tutto il protocollo SOCKS che invece va a definire l'utilizzo dei proxy, ovvero il browser deve sapere se sta parlando con un server o se sta parlando con un proxy e nel momento in cui parla con un proxy deve utilizzare un protocollo diverso per brappare i messaggi, per esempio il SOCKS proxy. Poi abbiamo anche il protocollo FTP, il protocollo file ad esempio, che è un protocollo meno conosciuto del browser, ma fondamentalmente il protocollo file permette di accedere alle risorse del file system della macchina. Ora per implementare tutte queste cose il browser deve avere un sacco di logica fondamentalmente e questo soltanto rispetto allo stack protocollare. Quindi soltanto rispetto allo stack protocollare ovviamente è un bel casino, c'è un sacco di logica, un sacco di anche aspetti molto critici perché tutte queste codebase non sono per niente banali da implementare e se uno fa un errore nelle implementazioni in queste codebase le conseguenze possono essere disastrose. Perché? Perché torniamo al fatto che il browser è il punto di interfacciamento che l'utente ha con il web e quindi se qualcosa va storto, se il tuo browser è vulnerabile, magari tu potresti aprire una pagina HTML e qualcuno potrebbe eseguire codice sulla tua macchina. Quindi potrebbe essere estremamente pericoloso e ovviamente questa pericolosità ha a che fare con il fatto che nessuno può controllare il contenuto HTML che tu potrai ricevere in una pagina. E quindi il browser deve essere letteralmente pronto a trovarsi di tutto. Roba malevola, roba normale, roba buggata e via dicendo. E questo per quanto riguarda però lo stack protocollare. Poi ovviamente il browser è un interprete di vari linguaggi, tra cui l'HTML, il CSS e il JavaScript. Ora, quando uno impara questi linguaggi molto spesso sono tirati un po' addosso tutti assieme, ma in realtà storicamente questi tre linguaggi hanno avuto proprio una progressione storica e il primo dei linguaggi è stato proprio l'HTML. E quindi il browser inizialmente era stato sviluppato soltanto per leggere e renderizzare queste pagine HTML. Per esempio, questa pagina, io che cosa posso fare? Posso prendermi un browser, vado in source, questa è la index.html, chiamo il Chromium con questa index e ottengo la renderizzazione di questa pagina, che ovviamente sembra banale, ma la logica che ci sta dietro è tanta, perché il browser deve interpretare la struttura del codice e renderizzarlo. Ora inizialmente, perché è stato introdotto HTML? Perché HTML quello che permette di fare permette di strutturare un'informazione, ovvero la differenza tra un file HTML e un file di testo è che in HTML il testo è contenuto in dei tag. Questi tag sono anche chiamati elementi, cioè il tag fondamentalmente è l'inizio di un elemento e la fine di un elemento, tag di apertura e tag di chiusura e tutto quanto è l'elemento. Ora la strutturazione di informazioni è una delle cose più importanti del web, perché non è soltanto che mi dà accesso a informazioni digitali, ma mi dà accesso ad informazioni digitali strutturate, con però una struttura che è un po' più flessibile di una struttura tipica database relazionale. Un tempo questa è stata una vera e propria rivoluzione, perché ha permesso di descrivere delle informazioni, di strutturarle e di condividerle, di rendere accessibili agli altri tramite tutto il meccanismo per esempio delle URL, dove le URL vanno a identificare delle risorse tipo questa pagina HTML e tramite i link quindi si potevano fondamentalmente avere le connessioni tra pagina HTML. E quando io ho detto che il web fondamentalmente è un'astrazione che nasce sopra internet, un modo astratto per descrivere il web è proprio questo, ovvero il web è tutta quella, quel network, quelle reti che collegano documenti HTML ad altri documenti HTML. Quindi in realtà il web non è proprio qualcosa a che fare con le reti, ha a che fare con i documenti HTML e con il modo in cui questi documenti fanno riferimenti a documenti simili, i link, tutti i link di Wikipedia, le varie risorse e via dicendo. Quindi il web è un insieme, un enorme, grandissimo, oramai è veramente assurdo, una struttura estremamente complessa di documenti HTML. Per un'ultima analisi questi sono documenti HTML con i vari tag. Poi ovviamente nel corso degli anni sono stati introdotti vari divi tag per cercare di descrivere sempre meglio la struttura di questo contenuto. Per esempio il main non c'era inizialmente, è stato introdotto dopo per dire ok, vogliamo dare a questo particolare elemento un significato semantico. Ovviamente qual è il problema del web? Il problema del web è che, questo è un problema che l'informatica in generale, quello che standardizza il linguaggio può dire ok, il main serve per wrappare il contenuto principale, poi però quello che utilizza il main lo fa come gli pare fondamentalmente. Quindi nel web in realtà i documenti HTML sono strutturati è vero, ma poi la semantica di ciascuno utilizzo non è facile da generalizzare e ciascuno poi tende a scrivere la propria struttura, tutte le applicazioni, quindi diventa un bel casino ed è fondamentalmente il problema del web è proprio quello, è che ha tanta sovrastruttura ma è poco organizzata ed è pochissimo uniforme in realtà, è estremamente poco uniforme e questo crea vari problemi. E quindi questo è l'HTML. Poi è stato introdotto il CSS che ha modificato l'aspetto delle pagine, quindi queste regole fondamentalmente tipo body, margin, zero, text line, width, color e via dicendo. Questo ha permesso di cambiare il modo in cui quello stesso HTML veniva mostrato dal browser. Quindi anche tutto il CSS a livello implementativo è molto difficile perché richiede adesso capabilities di renderizzare elementi grafici, quindi il browser diventa una specie di engine grafica per mostrare delle cose, inizialmente magari molto primordiale, ma poi col passare del tempo il browser è stato in grado di fare cose sempre più complesse fondamentalmente. Tipo in questo caso è quest'altra pagina, style.html e abbiamo introdotto i colori, abbiamo introdotto, no, lavorare con il font size, con tutte queste cose che possiamo, abbiamo un linguaggio a parte, standardizzato a parte con tutta una serie di altre regole che aggiungono enormemente di complessità per fare queste cose. Questo ovviamente è un esempio molto banale. E fin qui comunque ci siamo. A un certo punto hanno fatto il, diciamo, hanno fatto la cosa più impattante per quanto riguarda il web, ovvero hanno introdotto il JavaScript. Ora, la cosa interessante da capire è che prima del JavaScript l'HTML era praticamente statico, era sempre statico, ovvero una volta che lo scrivevo questo HTML non cambiava nel tempo, ovvero quando il browser lo riceveva dal server, il browser non lo poteva modificare durante l'esecuzione, semplicemente lo prendeva e lo renderizzava. Poi alcuni elementi, diciamo, dell'HTML hanno introdotto delle funzionalità, cioè c'è una specie di linguaggio tra l'HTML e le azioni che il browser può fare. Per esempio, se noi abbiamo un form HTML, il form HTML è un modo per strutturare la generazione di una richiesta HTTP, ovvero quando noi riempiamo un form nel browser, lo facciamo tramite HTML e oramai anche tramite JavaScript. E poi quando inviamo il form, stiamo dicendo al browser, ok, adesso tu mi prendi i dati da questo form e mi generi una richiesta HTTP. Quindi c'è un'interazione tra appunto l'HTML, che è il formato di dati, e l'HTTP, che è il protocollo che utilizzo per comunicare quei dati. E quindi questo appunto meccanismo in alcuni attacchi, per esempio, è sfruttato. Per esempio, nel cross-site request forgery, CSRF, quello che fa un attaccante è crea un HTML forma malevolo per far inviare una richiesta malevola dal browser della vittima. Quindi cerca di abusare di questi meccanismi per cui se io ho un form in una pagina, questo, quando viene submittato, va a generarmi una richiesta HTTP. Quindi ci sono molte interconnessioni tra i vari layer di un browser, no? L'HTML che dice quali richiesti inviare all'HTTP, il fatto che quando lui riceve la risposta HTTP poi la renderizza come HTML e via dicendo. E poi è stato introdotto il JavaScript. Ora, il JavaScript è sicuramente l'elemento più complesso del browser, quello che aggiunge più complessità. Perché? Perché che cosa permette di fare il JavaScript? Il JavaScript permette di prendere la pagina HTML, così com'è, e di modificarla. Quindi a questo punto la pagina HTML non è più statica come era un tempo, ma è un oggetto dinamico che si evolve. Si evolve rispetto all'esecuzione di JavaScript all'interno del browser. Quindi adesso che cosa fa il browser, il nostro browser? Lo step 1 è si prende l'HTML statico più si prende il codice JavaScript. A questo punto lui inizia renderizzando l'HTML statico, la prima versione, e poi continua ad eseguire il JavaScript e questo JavaScript può modificare l'HTML che potrebbe introdurre il nuovo JavaScript, che potrebbe modificare l'HTML e via dicendo. Quindi a questo punto il dinamicismo che avviene nel browser è estremamente molto più complesso di prima. Perché adesso abbiamo un linguaggio vero e proprio, potente come ogni altro linguaggio, che però è concentrato per lavorare con l'HTML. Ecco, la cosa importante da imparare del JavaScript è che il JavaScript ha uno scopo, un obiettivo ben preciso e ben definito, cioè manipolare l'HTML. Fare tutte quelle cose che hanno a che fare con la manipolazione di HTML. Per esempio, se consideriamo questo snippet di codice, abbiamo la pagina di prima, l'unica differenza è che adesso ho messo del JavaScript qui e il main ha un attributo chiamato id con valore main. Che cosa fa fare questo JavaScript? Utilizza le API del documento che nel gergo HTML JavaScript si dice DOM e questa roba sta per Document Object Model. E che cosa rappresenta? Rappresenta l'esecuzione dinamica del file HTML. Ovvero l'HTML adesso lo dobbiamo immaginare come un processo, come un qualcosa che evolve nel tempo. Non è più un file statico, ma è un processo che evolve e a andare a determinare l'evoluzione c'è proprio il JavaScript. Il JavaScript adesso può creare nuovi elementi HTML, come faccio in queste prime righe. Mi vado a creare un elemento paragrafo e in questo elemento ci metto dentro la stringhello. Questo è un elemento dinamico che ho creato con l'esecuzione e poi che vado a fare? Mi vado a selezionare l'elemento con id main, cioè mi vado a selezionare questo particolare elemento del DOM e gli dico append child, ovvero mettiti dentro dopo l'H1, dopo l'header, ti metti dentro questo nuovo paragrafo. Così facendo il JavaScript adesso è in grado di controllare tutti gli elementi della pagina e questo ovviamente ha molto potere. E questo a livello di Cogit lo possiamo trovare qui, chromium.js. E quindi fondamentalmente abbiamo questo hello, questo testo hello che abbiamo introdotto col JavaScript. E se noi apriamo i devtools, che è uno strumento estremamente importante, quindi facciamo tra queste tre cose e poi abbiamo more tools e poi abbiamo developer tools, oppure con ctrl-shift-i, tutti gli aspetti del browser che ho menzionato li vediamo, perché abbiamo il DOM, che è questo HTML che però vive, è dinamico. Abbiamo il CSS che appunto ci dice per esempio, guarda, qui ho queste regole di stile con questi margini, questi padding, va dicendo. Ho la console che è l'ambiente di esecuzione JavaScript che mi permette appunto di interagire con la pagina. Ho i sorgenti, cioè i file statici su cui mi baso, perché fondamentalmente è questo. E la differenza tra il source e gli elements è che il source è il codice iniziale, quindi il codice statico, il codice che ancora deve essere eseguito, mentre in elements ho l'esecuzione di quel codice. Vedo il processo Evolversi, che in questo caso è una pagina web. Ho la tab di network, che mi va a delineare tutte le richieste che faccio con tutti i tipi di dato, immagini, fonte e via dicendo. Tab più specifiche di performance e memory. Tab di application, che invece ha a che fare con tutto lo storage della mia applicazione, perché ovviamente il browser implementa tutti dei meccanismi di dati per salvare i dati in modo persistente sulle varie sessioni, per esempio i cookie, il local storage, il session storage e via dicendo. E poi fondamentalmente posso avere del tipo rispetto alla security. Quello che c'è scritto ci quadra questa non è una pagina con HTTPS. Vuol dire che a questo punto la comunicazione in questo layer non è protetta da criptografia. Più ovviamente siano tante cose diverse, i browser sono in continua evoluzione, ma fondamentalmente abbiamo tab di network, tab di elementi che è il codice di integrazione, console che è l'ambiente JavaScript e tutti i sorgenti statici fondamentalmente. Ed è proprio per questa ragione che il browser necessita di implementare dei fortissimi meccanismi di sicurezza. Per esempio menzioniamone uno, la same origin policy. Che cos'è la same origin policy? Bene, fondamentalmente questa policy è una policy di sicurezza che è stata introdotta per evitare che il codice che esegui su una pagina del browser possa attaccare un'altra pagina del browser. E questo avviene quando queste pagine del browser sono associate ad applicazioni diverse. Per fare un esempio concreto, supponiamo che io vado su due siti diversi. Uno è leonardotamiano.xnz, l'altro è esadecimale.it. E supponiamo magari che questo tab ci lo ha proprio nella stessa istanza del browser. Ora, a livello di processo, cosa sta succedendo? Sta succedendo che lo stesso processo in memoria ha una tab su esadecimale e l'altra tab su leonardotamiano. Perfetto. Questa cosa deve essere gestita in modo molto attento. Perché? Perché significa che a livello di processo queste due pagine condividono il processo della stessa memoria. Quindi che cosa deve fare il browser? Il browser deve implementare dei propri controlli e dei propri boundaries di sicurezza per dire, guarda, lt ha la sua zona di memoria e esadecimale ha la sua altra zona di memoria. E se esadecimale prova a leggermi cose di Leonardo Damiano, per esempio, io non gli permetto di farlo. Io devo stare molto attento a come queste pagine, diciamo, condividono la memoria e condividono le informazioni. E questo è molto importante da fare. Altrimenti, quello che potrebbe succedere è, io visito il sito dell'attaccante, tipo attaccher.com, tipo attaccher.com, io visito questo sito e il codice JavaScript in questo sito si mette a leggere tutti i dati di tutte le altre tab, di tutte le altre applicazioni e poi fa exfiltration di tutti questi dati. Che ovviamente sarebbe uno scenario terribile da avere, fondamentalmente, perché sarebbe iperpericoloso. Quindi per ovviare a questa cosa, il codice JavaScript che esegue viene sandboxato. Ci sono tutta una serie di meccanismi di sicurezza per andare a, ok, tu hai una console JavaScript, ma non puoi fuoriuscire da questi vincoli. Ci sono dei limiti, e questi limiti è molto importante che siano rispettati. Questi limiti, fondamentalmente, definiscono appunto la sandbox JLS, ovvero che il codice JavaScript è codice a tutti gli effetti, ma è limitato. Lo posso dare a un attaccante, e l'attaccante comunque non dovrebbe avere accesso alle mie informazioni sensibili. E questa è una cosa molto, molto importante da garantire. Ed infatti, per esempio, perché le problematiche di XSS sono gravi, di cross-site scripting? Sono gravi, perché quello che fanno è introducono JavaScript nel contesto, però, in un contesto sensibile. Cioè, mentre se io vado sul sito dell'attaccante, lui mi può dare il JavaScript malevolo che gli pare, ma il browser mi protegge tramite questi meccanismi di sicurezza e di sandboxing, quando sto in una situazione di cross-site scripting, quello che succede è che sul mio sito, per esempio su esa decimale, viene eseguito del codice JavaScript di un'altra persona, e a quel punto quell'altra persona può avere accesso a dei dati particolari. Per fare un piccolo esempio e poi termine il video, supponiamo che io utilizzo il local storage per salvare qualche segreto. Tipo in questo caso non lo utilizzo, non c'è nulla, ma supponiamo possiamo utilizzare questo meccanismo con local storage.setItem, qui metto la chiave dell'item tipo token, e qui metto secret, un valore segreto che io non voglio che sia notato. Quando io eseguo questa azione sulla console di questa particolare pagina, il browser associa alla memoria di questo sito una particolare chiave nel local storage, con il valore keytoken e valuesecret. Ora, a questo punto, cosa succede se un attaccante è in grado di eseguire JavaScript in questo particolare contesto? L'attaccante quello che può fare è, può letteralmente prendersi il valore che avevo storato io, quindi può fare getItem, token, e può eseguire una roba del genere. Ora qui perché è getItem con la I maiuscola ovviamente, quindi getItem, e può fare una cosa del genere. A questo punto si prende il valore. Ovviamente noi stiamo modellando un attaccante che esegue i codici di questo tipo sul nostro browser, quindi che vuol dire? Vuol dire che l'attaccante non ha la visione grafica dell'applicazione, non è che sta fisicamente sul nostro PC. Quindi se lui fa semplicemente local storage, getItem, insomma, non è poi così impattante, perché? Perché non vede fondamentalmente questo valore. Ma ci sono altri modi che possono portare a dei danni. Quali sono? Bene, supponiamo che l'attaccante per esempio ha un suo sito web, e in questo caso io lo simulerò con un server Python, tipo lo metterò a 1338, porta 1338, che cosa può fare l'attaccante? Beh, l'attaccante può fare una fetch tramite il JavaScript, dove la fetch è quella primitiva JavaScript che va ad interagire con le primitive del browser per effettuare richieste HTTP. Quindi, mentre per esempio il form HTML, l'HTML form, permette di codificare delle richieste HTTP statiche però, in cui alla fine i parametri sono dettati della struttura HTML del form, con una fetch in JavaScript, io posso crearmi delle richieste arbitrare, con dei dati arbitrari che sono calcolati sempre nel contesto JavaScript della pagina. Nello specifico che posso fare? Posso fare una string interpolation, metto l'handpoint dell'attaccante, tipo 127-001-1338, metto fondamentalmente qui come parametro nel path l'informazione che voglio, tipo il local storage or getItemToken, e una volta che invio questa richiesta fondamentalmente, qui l'attaccante, che cosa si fa? Message in supported option? Probabilmente perché devo dire una fetch. OptionSecret, vabbè, fa una get, fa una get. Quindi poi fa una get.slash.secret e quindi qui ottengo fondamentalmente l'informazione del local storage. Ora, se notiamo bene in questa console, il professor mi ha detto, guarda, l'accesso a questa risorsa ti è stato bloccato dalla course policy. E questa fondamentalmente è un altro tipo di policy, che cerca sempre di evitare, di far rispettare questi boundaries di sicurezza. Però, anche se il mio JavaScript non ha potuto leggere la risposta del server, ha potuto comunque inviare la richiesta, e quindi l'attaccante fondamentalmente si può fare exfiltration di dati. Ora, magari in un video futuro, perché questo è già abbastanza lungo, potrò parlare più in dettaglio di course, a che cosa serve, perché è stata introdotta e via dicendo. Comunque in questo video voglio semplicemente far riflettere sul fatto che i browser sono degli strumenti estremamente complessi, e che probabilmente sono tra gli artefatti più complessi che utilizziamo ogni giorno, e che ci sono sempre meno browser disponibili, perché stanno diventando sempre più complessi, e col passare del tempo diventeranno sempre più complessi. Per esempio la same origin policy, qui fondamentalmente appunto è che come si va ad identificare un'origine? Un'origine fondamentalmente è l'unione tra un protocollo, un nome di dominio e un numero di porta. Che significa? Significa, ad esempio, che se io faccio una richiesta a Leonardo Damiano, .xyz, qui il protocollo è HTTPS, il dominio è Leonardo Damiano .xyz, e il numero di porta è implicitamente messo a 443. Se invece io utilizzassi la porta HTTP, quando io non definisco la porta, è implicitamente la porta 80. Altrimenti io posso anche definire una porta custom, tipo 1337 e via dicendo. Ora, qual è l'idea? L'idea è che se io ho del codice, che mi gira su l'origin1337 di HTTPS di Leonardo Damiano .xyz, oppure l'origin1338, queste sono considerate come origin diverse, e quindi tra questi due meccanismi ci saranno dei meccanismi di boundaries, di confini, che non permetteranno appunto a tutti i dati di essere condivisi. E quindi il JavaScript che esegue su questa pagina non avrà accesso al JavaScript che esegue sull'altra pagina e alle informazioni dell'altra pagina, o comunque, per fare comunicazione cross-origin, ci sono tutta una serie di meccanismi di sicurezza che si vengono ad attivare. E quindi questo è il modo fondamentalmente in cui la sicurezza sul web si regge. Altrimenti un attaccante si registrava il suo sito e avrebbe potuto accedere ai dati di tutti gli altri utenti, che ovviamente è una cosa da evitare. Poi per esempio abbiamo i cookie. I cookie sono un altro topic estremamente vasto, non li menzionerò, però anche i cookie sono dei meccanismi gestiti e processati automaticamente dal browser per meccanismi di autenticazione, cioè per gestire l'autenticazione delle applicazioni web. E fondamentalmente nel passare del tempo, quel passare del tempo, sono stati trovati varie attacche ai cookie e quindi i browser hanno introdotto tutta una serie di attributi che vanno a modificare come questi cookie sono processati per cercare di aumentare nella sicurezza. Per esempio l'HTTP only, il secure e il same site sono tutti attributi diversi, il cui compito è cambiare il modo in cui il browser li utilizza al fine di renderli più resilienti. Ovviamente sono, diciamo, dei meccanismi in cui proteggono rispetto a certe cose, ma comunque ci sono scenari in cui possono essere attaccati. Quindi anche lì non è proprio al 100%. E niente, quindi lascio questo documento che descrive la network stack di Chromium, fondamentalmente con tutti i vari protocolli che ovviamente possono essere anche ripresi proprio dal codice esorgente, dato che Chromium è open source. Qui c'è un diagramma che mostra fondamentalmente come il codice è strutturato. Molto complesso, molto complesso. Io ho fatto questo video più che altro per far capire che i browser, i software che utilizziamo ogni giorno, che sembrano a prima vista semplici, perché li utilizziamo semplicemente mettendo una stringa, un URL e lui fa il resto. Si occupa di nascondere tutti questi dettagli e qui ce ne sono veramente tantissimi. In questo video ne ho menzionati pochissimi. E niente, i browser sono tra gli artefatti software più complessi che utilizziamo ogni giorno. E quindi con questo concludo il video. Magari in futuro parlerò un po' di meccanismi specifici del browser, tipo il course, che cosa serve, perché può dare problemi con uno sviluppo e via dicendo, e cose del genere in caso, a seconda di come sono ispirato dal momento. E niente, questo è quanto e al prossimo video.